La roba dei professori, guardate, a me mi ha veramente distrutto, cioè, che non è solo il fatto che ho perso un anno massi sti cazzi, non è solo quello, mate, mi vengono in mente ricordi e tante altre cose che non vi ho mai raccontato che mi fanno sempre stare male, cioè figa, cioè hanno incrinato il rapporto con i miei compagni di classe, il rapporto con i miei genitori, il... mi hanno fatto smettere YouTube, cioè mi hanno fatto smettere YouTube, cioè mi hanno portato a pensare che YouTube fosse la cosa sbagliata da fare, e io infatti YouTube ho abbandonato completamente. I professori pensavano che io facessi, con quello che facevo io, i professori avevano sta strana idea che, cioè, ma ve lo spiego, ma è proprio stupida, è proprio stupido come ragionamento, cazzo. Vi spiego. I professori dicono, la preside è questa, ma Gioele, ma secondo te, se dei ragazzi di terza media, i genitori di questi ragazzi di terza media vedono un tuo video e dicono, secondo te, mandano il proprio figlio alla scuola? No, perché tu la stai diffamando. In realtà, in realtà, io non l'ho risposto alla preside, quando mi ha detto questa cosa, o al prof, mi cazzo mi rodo chi cazzo era, non gli ho risposto, ma volevo distruggere dicendo, guarda, signor prof o preside, se si venisse a sapere che io vengo in questa scuola, il tasso di persone che viene in questa scuola triplica, triplica, perché i ragazzi di terza media vorrebbero venire nella scuola dove è andato Gioele, vorrebbero venire, avere la possibilità di avere gli stessi professori miei e avere la possibilità di vedermi a scuola. Quindi era il contrario, perché poi io non ho mai avuto un vero e proprio confronto con i professori della preside, cioè, io ne ho parlato, cioè, in quel periodo io speravo, ci speravo con tutto il cuore, che non venissi bocciato, sospeso o cosa, e con tutto il cuore io stavo zitto, mi subivo gli insulti, mi subivo il bullismo che mi stavano facendo, perché, cioè, io speravo che non mi bocciassero, ragazzi, era maggio, cioè, io avevo tra un mese alla maturità, avevo tutte le materie sopra, e finivo scuola, cioè, e andavo avanti con la mia vita, minchia, andavo a continuare a lavorare, mi ritenevo i miei soldi da parte, continuavo con YouTube, cioè, adesso magari sei diventato qualcuno di un po' più famoso, e quindi, cioè, ragazzi, dopo che sono stato sospeso, che tra l'altro, ragazzi, mi hanno sospeso per 30 giorni con obbligo di frequenza, quindi, secondo il loro ragionamento, io avrei dovuto andare a scuola, sarei dovuto andare a scuola per quei 30 giorni di sospensione a fare dei lavori socialmente utili, lavori di mettere a posto delle verifiche degli scorsiani, mettere a posto le robe, cioè, secondo il loro ragionamento, io sarei dovuto andare per 30 giorni a scuola a fare lavori socialmente utili, con la consapevolezza che io sarei stato bocciato a fine anno, cioè, ma capite con che gente mi rapportavo? E poi, la roba più assurda di tutte, la roba veramente più assurda di tutte, qual era? Che dopo che io ho smesso di andare a scuola, perché dopo che mi hanno comunicato ufficialmente che sarei stato bocciato, e ho smesso di andare a scuola, cosa hanno fatto? Un sabato, i miei professori hanno fatto venire a scuola tutti i genitori dei miei compagni di classe, li hanno fatti andare tutti in aula magna, dove c'è il mega schermo, e si sono messi, immaginatevi, tutti i professori seduti, tutti i professori con la preside in mezzo, con dietro un mio video, che era fare quasi a botte col portito, no, non era così, come prendere il debito italiano senza studiare, tipo una roba del genere, e, no, come ho preso il debito, no, la nota più assurda a scuola, hanno fatto venire tutti i genitori a scuola per far vedere chi avevano in classe, cioè, quindi immaginatevi i classici boomer, ragazzi, i classici boomer, che non capiscono un cazzo di comicità e non capiscono un cazzo di YouTube, eccetera, che vedono sto ragazzino, che ero io, ragazzi, che ero un alunno, che poi cosa hanno detto? Ma io mi sto incazzando troppo, cosa hanno detto? Hanno detto, signori, non possiamo dire il nome di questa persona, però non diremo, scurriremo il nome di questa persona, e c'era il cazzo di overlay con scritto Joy, c'era la mia cazzo di faccia, c'era la mia cazzo di voce, ed ero io, cioè sono stato in classe con loro per cinque anni, sapevano chi cazzo ero, quindi non è che dicono, no, non possiamo dire il nome di questa persona, perché possiamo rischiare qualsiasi cosa, cioè, figa, immaginatevi tutti i genitori dei miei compagni di classe, che vedono io che dico, eh ragazzi, ho copiato a scuola, ho copiato a scuola, sono riuscito a ingannare il professore, ho preso un bel voto anche se non ho copiato, che coglione il professore, cioè, e qui, ma cosa volevano dimostrare con sta cosa? Cosa volevano dimostrare? Volevano sputtalarmi davanti a tutti, ok, ma a che pro, a che pro? Perché dovevano fare sta cosa? Cioè, per far vedere ai genitori, per mettersi con l'animo in pace perché hanno rovinato la vita di un ragazzino, cioè, ragazzi avevo 18 anni, cioè, cosa, che male potevo fare? Come pressione psicologica, hanno detto, tu devi cancellare, mettere nascoste, devi togliere tutti i video dove parli della scuola, perché sennò noi ti facciamo una denuncia e ti roviniamo per tutto il resto della tua vita, cioè, capite che pressione mi hanno messo addosso? E secondo loro avrei dovuto fare un video dove chiedevo scusa alla scuola, e poi, e poi, tutti i miei compagni di classe si sono ritrovati, i professori erano incattiviti l'ultimo mese, incattiviti, altri miei compagni di classe che venivano sospesi, cioè, immaginatevi, immaginatevi, i genitori dei miei compagni di classe, di 3-4 compagni di classe che sono tuttora adesso miei stretti amici, tipo Fabrizio, Colombo, Manu, immaginatevi, i loro genitori che dicono, mamma, guarda, siamo stati sospesi perché Giulia aveva fatto sti video e non aveva detto niente ai prof, immaginatevi, i genitori dei miei compagni di classe come mi vedevano, cioè, immaginatevi anche questo, figa, mi hanno messo in una situazione di merda, io con la cazzo di estate, letteralmente, io ho pensato di suicidarmi, figa, non si fa, non è una soluzione al suicido, ragazzi, è una cosa bruttissima, un ragazzo di 18 anni, ragazzi, cazzo, porca troia, i genitori mi dice conto che cazzo me ne frega se la mamma di quello gli sto sul cazzo, ma il fatto è che portavano a dire Joe e figlio non andare, non uscire con Joe perché è una pessima persona, ma per cosa? Cioè, ma tutti, ma tutti quando andavano a scuola dicevano che schifo i miei professori, cioè odiavo i miei professori, oppure nelle gite ci siamo ubriacati, ma tutti fanno queste cose, solo che lo raccontate su YouTube che avevano delle visualizzazioni e allora i professori si sono in cattività, eccetera, come se avessi detto, professore qua ti odio, ti ammazzo, ti vorrei uccidere, cioè, ma non hai neanche detto queste cose, figa, l'abbiamo visto nel video di prima che ho detto, professore, prof, ti voglio bene, figa, cioè, porca troia, ma porca troia, tutto quello che è successo è per colpa di due professori che odio a morte, ma a morte, li odio, a morte si è sfogato un po', sì, cioè, boh, boh, dicendo queste cose tu dici, ovvero che i tuoi docenti ti facevano bullismo e pressioni psicologiche, non può succedere un altro casino come quello che è successo su YouTube, mi dispiace per quello che ti vedevo sorridente, allora, se non c'è un professore che mi sta vedendo questo video, cioè, aggrappatevi, cioè, aggrappatevi letteralmente, ma aggrappatevi letteralmente, ma non me ne frega un cazzo, ma non me ne frega assolutamente un cazzo, eh, porca troia, il karma gira, ma speriamo, ma speriamo che il karma gira, ma aggrappatevi a sto cazzo, cioè, ma veramente, tra l'altro, che tra l'altro, posso dire i miei genitori, se voi adesso parlate con mia mamma o mio padre, loro vi diranno che i professori hanno esagerato, allora, voi potete dire, era giusto punire Gioe, ci stava, ci stava a punire Gioe, io posso anche dire, vabbè, ci sta, ci sta che mi hanno punito, posso dire che i professori potevano prendere dei provvedimenti, ci stava, posso, posso, allora, posso, io posso anche capire dei professori che sono sentiti presi per il culo, da un ragazzino 18, 18 anni sfigato, che voleva essere chissà chi, ci può stare, ci può stare, ci può stare che volevano punirmi, ma ragazzi, hanno esagerato, anche i miei genitori dicono, hanno esagerato, cioè, hanno veramente esagerato, mi hanno messo all'agonia, cioè, mi hanno buttato in mezzo alla massa, dicendo, questo, ha fatto questo, questo, quest'altro, è stato, ci ha rovinato, ha creato un danno alla scuola, cioè, secondo i professori, io avevo danneggiato l'immagine della scuola, io! Con la prof di tedesco, con la prof di tedesco, che è quella che ci ha portato in gita a Monaco, che è quella che, il video di prima ha detto, prof, ti voglio bene, e... A me per quella prof mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto veramente, perché lei ci ha, si è fatta il culo per portarci a Monaco, io, come un coglione esagerato, ho fatto le storielle, ho vomitato, ho cagato nei bidei, cioè, ho proprio fatto il pazzo a Monaco, lo ammetto, e la prof ha fatto la figura come l'hanno portati in gita e guarda che cosa gli ha fatto fare. Quindi, a me per quella prof, a me dispiace veramente, dispiace veramente perché ci è rimasta male con la prof, e per quella prof mi è dispiaciuto. Io arrivo a scuola il giorno dopo, che avevano fatto sto consiglio di classe straordinario, col professore d'italiano, che inizia così la lezione. Ragazzi, oggi non faremo lezione, oggi faremo un attimo una lezione un po' diversa, sono successe delle cose, e noi adesso vedremo delle... vedremo un video, che però non possiamo parlarne, non possiamo dire assolutamente niente, non ci saranno interventi, e si vedrà questo video e non si fa niente. Il professore d'italiano fa venire un mio compagno di classe, gli dice, dai, scrivi su YouTube Gioe con due. E io già la faccio... e prof, cosa sta facendo, scusi? E... si è messo in classe a vedere il prof d'italiano, e ho detto, come superare il debito d'italiano senza studiare, quella storia è la la. E... e tutti ridevano tanto durante il video, tanti ridevano, il prof si incazzava perché noi ridevamo, però dico, non mi ha dato modo di replicare. Cioè, io ho detto, prof, cioè, ma scusi una cosa, alzo la mano e dice, no, no, per ti caro, non può parlare, abbiamo detto all'inizio che non si possono fare interventi. Cioè, ma vedete cos'era? Ma vedete cos'era? Perché poi hanno detto, non lo dico dal vivo, non lo dico dal vivo, cioè, non dico che Gioe e per ti caro che stanno facendo sta cosa, e... cioè, è umiliante, esatto, è umiliante, ragazzi, è umiliante sta cosa, è umiliante. Cioè, mi sono sentito sotterrato da sta cosa, cioè, non potevo parlare, non potevo dire niente, cioè, mi hanno completamente assalito i professori. E perché poi io sapevo che, cioè, mi hanno fatto credere che ero nella parte completamente del torto, ed io ero zitto, ero zitto e non potevo fare niente, chiedevo solo scusa per aver paura, per paura di non essere bocciato. Cioè, per paura di essere bocciato, per non essere bocciato, quindi, a fine anno. Ma non glieli pregavano un cazzo, loro volevano solo bocciarmi, hanno trovato, loro per cinque anni mi hanno odiato, hanno trovato il pretesto per distruggermi completamente, ed è successo quello che è successo, ragazzi. Ma tu cosa pensavi mentre registravi quei video? Non pensavi alle conseguenze, ragazzi, cioè, effettivamente. Cioè, no, ragazzi, non pensavo alle conseguenze, cioè, sono cazzate, sono video del cazzo che carico su YouTube per divertirmi, ragazzi, per divertirmi. Cioè, io non è che facevo un video per dire la scuola è una merda, non andate in sta scuola, cioè, che cazzo me ne frega di sta scuola. Cioè, ragazzi, io i video li facevo per divertirmi. Ma cazzo. Non posso immaginare come troppo abbia passato l'estate. Secondo te come l'ho passata? Con i miei genitori che mi odiavano, che io non sapevo se fare YouTube o meno, se continuare o meno, se lavorare o meno. I miei genitori che mi avevano messo una deadline, che dovevo scegliere cosa fare della mia vita. Io mi sentivo intorto, io mi sentivo veramente intorto, ma mi sentivo veramente malissimo. Cioè, boh. Io, ragazzi, veramente, vi auguro a tutti voi di non passare quello che ho passato io. Che magari, magari la gente dice, magari la gente dice, giusto, queste cose sono cazzate, minchia, va avanti, va avanti per la tua strada, cioè, minchia, sti cazzi. Almeno quelle state scopate, esatto, almeno quello. Però, ragazzi, sono sensibile io, non so cosa dirvi. Sta cosa mi ha segnato veramente tanto. Sta cosa mi ha segnato veramente tanto. Con i tuoi amici, come è finita, ragazzi? Le vere amicizie non si perdono per ste robe, secondo me. Infatti, con i miei amici, ragazzi, sono tutto da adesso in buon rapporto. E chi era veramente mio amico è rimasto mio amico, ma tutto da adesso. Colo, Fabri e Manu, loro sono rimasti amici dalla scuola. Io vi ringrazio tantissimo per il messaggio che state scrivendo. Cioè, mi state tranquillizzando tanto voi. Mi sono molto emozionato a stare in realista live. Ti si vuole bene, giù. Esatto. Mi sto emozionando tantissimo io. Ma davvero, vi giuro, sto per piangere, vi giuro. Comunque no, volevo ringraziare tutti quanti voi, perché mi avete dato una mano qua in live. Fì, ragazzi, vi giuro, sto per piangere, vi giuro. Oh, scusatemi, boys. Non voglio essere un po' così tanto super emozionato, super emotivo. E vi ringrazio perché... No, ragazzi, scusatemi, scusatemi, scusate, non ce la faccio, non ce la faccio. Sono so... Perché il problema, ragazzi, è che... Pensa all'intercapolista. Esatto, almeno siamo primi in campionato, boys. Che tanto sto weekend col derby perdiamo sicuro e torniamo ultimi. Torniamo secondi. E... Porca... E fia, non riesco... Scusatemi, boys, scusatemi. Uh, uh. Will Pena ha regalato 10 abbonamenti di livello. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, mate. Grazie mille per gli abbonamenti, grazie davvero. E... Uh, scusatemi, fia. Grazie mille per gli abbonamenti, mate. Ne hai regalato un botto stasera, grazie davvero. Però quello che volevo dire è che... Grazie a voi, ho superato facilmente sta cosa. E... Grazie a voi, scusatemi. Grazie mille per gli abbonamenti, comunque. Grazie mille, mate. E... Grazie mille, mate. Esatto, il fatto che... Eh, ragazzi, fia, non riesco a parlare. Sia, sono... Sono in down completamente adesso. Eh, ma queste ragazze sono... Cioè, sono... Sono lacrime di sfogo. Nel senso perché... Grazie mille per gli abbonamenti. Sfogandomi di... Cioè, sfogandomi adesso mi sento un po' più tranquillo. Che poi sfogandomi, cioè, non è che ho fatto chissà cosa. Cioè, tante... Ci sono tantissime cose da raccontare. Grazie mille per gli abbonamenti. E... Cazzo come... Cazzo... Cazzo broia. Grazie mille per gli abbonamenti. Grazie mille per gli abbonamenti. Adesso sto piangendo perché... C'è una grossa community dietro... Cioè, voi. Voi che mi date... Tutto sto supporto. E quindi tutto quello che mi è successo. Cioè, se... Il fatto che ci siete ancora così tanti. Che sta andando tutto bene adesso. Cioè, che... Sono un po' più tranquillo. Sta cosa mi... Mi permette un po' più di serenità. Però vi dico, ragazzi. Cioè, sono stato veramente male in quei periodi. Ma veramente male. Non sto piacendo. Sono un sasso nell'occhio. Esatto. E... E niente, boys. Sono... Sono contento di avervi come community. E sempre... Cioè... È sempre stato una... È sempre stata una forte community. Quella che ho creato con voi. E... La community che avevo... Cioè, con voi. Perché siete tanto, tanto, tanto... Attaccati. E... Quindi... Io vi ringrazio, ragazzi. Perché siete stati... Cioè, grazie a tutti i messaggi di questa sera. A parlare di sta cosa. Perché... Effettivamente mi avete dato... Una mano. E... Cioè... Perché, ragazzi. Sti anni non ho parlato con nessuno di sta cosa. E... No, no. Non stacco. Non stacco. Cioè, non voglio staccare in queste condizioni. Perché crepo letteralmente. Se mi metto adesso da solo nel letto. E... Però il fatto che... Cioè, ci siete voi a... A dirmi giù tranquillo. Tanto poi sono cose passate. Ci siamo ancora. Cioè, sta cosa mi... Mi riempie un po' il cuore. Cioè... Perché effettivamente... In questi anni non ho parlato veramente con poche persone. Poi ho sempre cercato di essere quello... E... Quello super... Eh... Bravo. Che non piange. Tutto strong. Che... Gli potete tirare addosso qualsiasi cosa. Giove sempre... Eh... Quello che non... What? Chris sei un matto. Chris... Cazzo... Grazie mille. Chris per i 20 abbonamenti. Mate, sei un matto. Ti amo tantissimo. Sei un grande. Sei un grande veramente. Mate, sei un matto. Sei un matto veramente. Sei un matto veramente. Ragazzi, fatemi un attimo mutare gli alert. Perché se no è un continuo... Non era tipo... Era tipo... Cioè, giusto il volume degli alert. Grazie mille. Grazie mille, Chris. Veramente. Grazie mille. E... Grazie mille per i 20 abbonamenti. Cioè, stasera ne è arrivati tantissimo. Sono... Ragazzi, sono veramente contento. Cioè... Allora... Non voglio essere quello che piange per avere gli abbonamenti o cosa. Cioè... Scusatemi. Scusatemi. Di solito non mi vedete mai così. Però il fatto che... Ah, appunto. Ne ho parlato stasera con qualcuno. Mi sento molto più tranquillo. E... E vi ringrazio tanto. E ringrazio tutti i ragazzi che hanno... Si sono abbonati. Tutti i ragazzi che hanno arrivato agli abbonamenti. Ma perché sta cosa? Perché... Eh... Vedo che c'è un riscontro da parte di una community. E a me sta cosa mi fa tanto piacere. E vi ringrazio tanto ragazzi. Perché... Ho fatto bene a sfogarmi. Esatto. Sta cosa... Sì, insomma, sono piante di sfogo. Cioè... Eh... Esatto. Cioè, anche parlare qua davanti a tutti fa onore. Sì, perché effettivamente ragazzi, cioè... Eh... Parlarne... Non è tanto semplice. Non è tanto semplice perché... Ero veramente... Tutti... Amici. Cioè, amici neanche più di tanto. Compagni di classe. Genitori. Eh... Erano tutti contro di me. I professori. Eh... I... Cazzo ne so. Anche il fatto che... Io mi sentivo in difetto con voi... A essere così scomparso da YouTube. Cioè, io... Mi sentivo veramente intorto nei confronti dei miei spettatori. Dei miei fan. Ad essere scomparso. Ma io non ce la facevo ragazzi a fare video. Cioè, ci ho provato tante volte nel corso di quell'anno... A fare dei video. Ma non ce la facevo. Non ce la facevo. Ve lo giuro. Non ce la facevo. Era difficilissimo. Vi giuro. Sì ragazzi, stasera... Stasera... Cazzo che... Che serata. Che serata. Eh... Spero che... Tra quanto la prossima live chiedere un amico. Penso mercoledì sera con Silvia. Che saremo insieme con la mia fidanzata. Che faremo... Penso la reaction alla caserma. Sì ragazzi, io ringrazio tutti. Cioè, siete tantissimi. Siete tantissimi. Io ringrazio veramente tutti. Tutti. Perché mi avete dato una birretta. Ci sarebbe... Non ci sono birri in casa. Cazzo non ci sono birri in casa. Poi, soffitto anche il monte George. Il fatto è che tanti ragazzi sotto all'ultimo video mi hanno scritto... Eh... Joe, sei cambiato. Joe non sei più lo stesso. Minchia. Eh... Sei cambiato. Cioè, da quando sei fidanzato. Sei troppo più responsabile. Eccetera. E... Sei cambiato. A me è stata un po' mi dispiaciuta. Perché ragazzi... Il Joe del passato era il Joe sfigato. Il Joe eccetera. E vedere che Joe sei fidanzato. E vedere che Joe è riuscito a trovare la fidanzata. È riuscito a superare un po' tutto. Cioè, dovreste essere contenti anche voi per me. Non chiedite se hai cambiato o non ti seguo più. Cioè, è stata cosa un po' mi è dispiaciuta. Poi è ovvio che con gli anni si cambia. Vi voglio bene boys. Vi voglio tanto bene. Vi ringrazio tanto. Anche se nei video io per scherzare dicevo che odio i miei fan. Siete tutti sfigati. Cioè, lo dicevo per scherzare. Ma penso che si capiva. E... Io sono molto, molto, molto contento di avere una community forte come quella che ho con voi. E... Vi voglio un bene dell'anima. Siete tutto quello che... Cioè, tutto quello che ho adesso lo devo tantissimo ai miei fan. Ci vedremo prima o poi. E ragazzi, se sta roba del covid finisce. Cioè, a me farebbe piacere bere una birra con... Con tanti di voi. Cioè, onestamente. Adesso vado sia su Freminaso sia a staccare la live. Io vi ringrazio veramente tanto per la serata. Ringrazio tantissimo tutti i ragazzi che hanno donato questa sera. Non sto a fare i nomi. Grazie veramente per la serata. So che è finita in un modo molto... Molto diverso da come era iniziata. Però magari abbiamo legato molto di più con questi... Con questo pianto di sfogo. Mi... Sono contento. Sono contento. E... Grazie ancora per tutti i cuori che mi state mandando in chat. Siete fantastici. E... Ci vediamo mercoledì alle 9.95. 9.10 più o meno. Con... Con Silvia. Che facciamo la reaction alla caserma. Penso. E... Niente ragazzi. Un grosso bacio. Vi voglio tanto bene. Grazie per la serata. E... Come facevo nei vecchi video. Da giù è tutto. Bella. Ciao.